Non basteranno i primi due incontri del tavolo riuniti in regione dall'assessore al lavoro Elena Donazzan. Ancora un risultato interlocutorio dell'incontro odierno, che segue quello dello scorso 8 novembre, nella trattativa sui quattro licenziamenti alle fonderie WDC Ex-Anselmi di Camposampiero. Una trattativa che però, a un primo passo in avanti, pare averlo fatto. Dai licenziamenti delle quattro persone si passerebbe all'utilizzo di strumenti differenti che per ora non sono conosciuti. Il tempo in questo caso potrebbe essere fruttuoso. Nuovo incontro tra sindacati e azienda a Venezia il prossimo mercoledì.